Evasione fiscale e contributiva, merce contraffatta, droga, illeciti nella certificazione dei corrispettivi e del prezzo dei carburanti. Sono questi i principali fenomeni emersi nell'ambito dell'operazione Play the Game, ideata dalla Guardia di Finanza di Pescara per intensificare i servizi di vigilanza estiva nel territorio della provincia. In particolare i controlli hanno rivelato la presenza di un lavoratore minorenne senza contratto né tutele né garanzie assicurative e altri impiegati irregolari con un'età compresa tra i 24 e i 40 anni di cui uno richiedente protezione internazionale in regime di accoglienza presso il centro di accoglienza straordinaria di Moscufo. Sono scattate inoltre maxi sanzioni per chi tra di loro ha percepito anche il reddito di cittadinanza di cui beneficia da oltre 4 mesi con indennizzo di più di 1000 euro al mese. Sono stati sequestrati poi oltre 2000 accessori per l'abbigliamento falsi e circa 3000 articoli di bigiotteria, denunciato un cittadino di etnia sinica per i reati di contraffazione e ricettazione. Nelle verifiche a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati identificati 4 giovani del pescarese, due ragazzi e due ragazze tra i 30 e i 40 anni, segnalati al prefetto di Pescara per detenzione ad uso personale di cocaina, crack ed eroina. Un ragazzo e una ragazza erano già stati precedentemente segnalati per lo stesso reato e il ragazzo, fermato a Pescara, non ha rispettato l'obbligo di dimora a Chieti, prescrittogli dalla competente autorità giudiziaria, nonché il divieto di fare uso di sostanze stupefacenti. Le fiamme gialle hanno inoltre effettuato numerosi controlli per verificare la correttezza fiscale degli esercenti, riscontrando irregolarità nella certificazione dei corrispettivi e nell'emissione degli scontrini per un totale di oltre 235 mila euro, sanzioni fino a 8 mila euro per i distributori che hanno violato le disposizioni normative sulla comunicazione dei prezzi di vendita dei carburanti.